Un evento che si è svolto all'Atelier Bonaiuti, pensato per omaggiare alcune delle più grandi attrici italiane e americane degli anni 40 e 50, e proprio attraverso di loro è stata raccontata una storia che ha unito la moda al teatro e al cinema, al canto e all'arte. Un evento che ha sottolineato come queste attrici iconiche siano rimaste nei nostri cuori e come abbiano creato attraverso il loro stile una moda che dura nel tempo. Abbiamo assistito ad una sfilata di moda flash degli anni 50, per poi trovarsi improvvisamente al giorno di oggi con gli abiti della collezione Primavera Estate del brand Amarella. Tra una sfilata e l'altra, pezzi recitati dall'attrice Monica Menchi. Noi vogliamo rendere omaggio agli attrici degli anni 50, ad alcune attrici iconiche degli anni 50, e far vedere come sono rimaste presenti ancora nella nostra vita e ci regalano emozioni da tantissimi anni e come il loro stile ancora continua a essere sulle passerelle della moda ancora oggi. Un'unione di moda, di cinema, di teatro, di musica, di canto. Farò un omaggio ad Anna Magnani e a Monica Vitti, questo è il primo mio ruolo, quindi sono già in fase di trucco e Anna Magnani e Monica Vitti sono stati i miei fari. Mi hanno in qualche modo illuminato la strada per fare questo lavoro, che è un lavoro faticoso, di sacrifici, ma meraviglioso. Con Anna Magnani farò il monologo che ricorda Mamma Roma e Monica Vitti, a parte Crauti, che cos'è un'attrice.